Un dietrofronte che nessuno si aspettava, quello di ieri della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Consiglio federale, come è noto, ha deciso di rinviare la definizione dell'organico di Serie C, in attesa che il TAR si esprima sugli eventuali ricorsi di Chievo-Verona, Carpi, San Benedettese, Novara e forse anche Casertana. Una decisione, quella di ieri, che ha lasciato, con l'amaro in bocca, le cinque squadre che credevano di essere ammesse ufficialmente in Serie C attraverso il ripescaggio, ovvero Latina, Lucchese, Fidelisandria, Fano e Siena. Un salto di categoria, probabilmente solo rinviato di qualche giorno, ma seppur un solo ricorso al TAR dovesse essere vinto, ci sarebbe un posto in meno a disposizione. Come è noto ieri, invece, il Consiglio federale ha deliberato la riammissione in sostituzione del Picerno. Una decisione possibile da adottare, contrariamente a quello che ritenevano in molti, in quanto tra i criteri di riammissione nel regolamento non era specificato alcun diniego per le squadre che erano state già condannate per illecito sportivo. Lo stop di ieri, comunque, dei ripescaggi in Serie C, a cascata, danneggia e blocca anche le compagini che abbivano al ripescaggio in Serie D, tra le quali c'è ovviamente il Brindisi. Il club del presidente Daniele Arigliano, dunque, per salire in Serie D, dovrà sperare che il TAR intanto respinga tutti i ricorsi delle squadre professionistiche e, in più, che vengano bocciate le iscrizioni di almeno due club di Serie D. C'è da attendere ancora qualche giorno, per ora è inutile fare qualsiasi tipo di previsione. Intanto, la società biancazzurra ha deciso di rinviare la partenza per il ritiro, inizialmente fissata per il 2 agosto.